I medici di famiglia sono in prima linea nella prevenzione del covid, ma mancano ad oggi i tamponi rapidi e i kit di dispositivi di protezione. Abbiamo sentito il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Verona, Guglielmo Frapporti. Noi abbiamo firmato un accordo nazionale e regionale, ribadisco un accordo, perché ci vogliamo prendere tutta la responsabilità in questa situazione, però a tutt'oggi non abbiamo ancora ricevuto dalla Regione e dall'Ulss i tamponi rapidi e i dispositivi che ci permettano di svolgere i compiti che ci siamo presi. Io personalmente la scorsa settimana li ho acquistati di tasca mia per poter fare i tamponi ai miei pazienti, ai quali li ho fatti naturalmente gratuiti. Venerdì ne ho fatto sei, quattro persone a casa ammalate e due in studio. Di questi sei tamponi fatti, tre erano positivi. I medici possono fare i tamponi o nel loro studio, alla fine dell'orario di ambulatorio, per consentire un ingresso in sicurezza del paziente e una sanificazione adeguata, semplice ma adeguata alla necessità. Oppure possono farlo anche con una modalità nuova, io l'ho fatti, in modalità drive-in, facendo arrivare il paziente nel parcheggio dello studio, lasciandolo in macchina e il medico esce e, vestito come si deve, fa il tampone al paziente in macchina. Li facciamo anche a domicilio, prevalentemente a persone malate. Ci mancano i tamponi, ci mancano i dispositivi e poi ci manca, me lo lasci dire, ancora un supporto. I medici di famiglia in questo periodo fanno due, tre ore di lavoro in più al giorno. Da quindici giorni io non riesco a pranzare e a cenare con mia moglie, perché spesso alla sera, fino alle dieci e anche alle undici, devo rimanere in studio a completare tutta la parte burocratica che è legata al contact tracing, alla certificazione e tra qualche giorno anche all'emissione dei certificati di quarantena, di apertura e chiusura dei certificati di quarantena e di isolamento, che ricordo sono dei provvedimenti contumaciali. Una cosa che non è di pertinenza di un medico che dovrebbe fare il clinico, sono dei provvedimenti di restrizione della libertà individuale che noi dobbiamo fare inserendo questi dati in un portale regionale. Ecco, i cittadini capiranno che ci stiamo prendendo un onere per sostituire delle carenze molto gravi dei servizi di igiene e sanità pubblica. Lo facciamo volentieri per quello che possiamo. Però, ecco, mi lasci dire un'altra cosa. Noi abbiamo avuto tanti discorsi sul modello Veneto, sulla sanità del territorio, ma sono stati solo discorsi, solo promesse. Dov'è l'infermiere di famiglia che ci dà una mano a fare i tamponi, a fare il contact tracing, a informare le persone su come comportarsi a domicilio quando un papà è positivo, la mamma è negativa, ci sono tre bambini da accudire. Come si fa? Dove sono? Abbiamo avuto solo promesse. Questa cosa dei tamponi rapidi, noi l'abbiamo sollecitata in regione agli inizi di settembre. Abbiamo avuto dei contatti prima delle elezioni, ci è stato promesso che in pochi giorni si sarebbe arrivati a un accordo per poterlo fare in medicina di famiglia. Poi si è fermato tutto. Siamo stati chiamati improvvisamente l'ultima settimana di ottobre e in due giorni abbiamo firmato l'accordo. Ma è un accordo, ma al momento siamo, come le ho detto, in difficoltà importante perché ci mancano a molti di noi i mezzi. Molti di noi poi non hanno degli studi adeguati perché lavorano in condomini e quindi c'è bisogno di una collaborazione dei comuni. Il saturimetro è importante. Pensi che noi abbiamo a casa in questo momento, questo è un dato, importante. Circa quattro volte i malati che risultano dai dati ufficiali. Circa quattro volte i malati che risultano dai dati ufficiali. Pensi quanti ne abbiamo e noi cerchiamo di monitorarli. Fortunatamente molte di queste persone non hanno problemi gravi, pur essendo positivi. Sono il 95% dei positivi. perché giustamente siamo preoccupati delle rianimazioni e degli ospedali. Ma il 95% dei malati sono a casa. Il saturimetro ci aiuta a capire la respirazione delle persone e noi lo diamo a casa. Anzi, nell'accordo che abbiamo fatto con la regione siamo in attesa di ricevere dalla regione almeno tre saturimetri per ogni medico da lasciare a casa ai nostri pazienti. Il livello di soglia, dal quale poi bisogna mettersi in contatto col medico, è 92% di saturazione. Sotto il 92% bisogna stare bene attenti a quello che succede. informiamo i pazienti all'uso del saturimetro e stiamo attivando anche una scheda di monitoraggio domiciliare da lasciare a casa del paziente che poi ci contatta anche per telefono noi e se ce l'avessimo anche l'infermiera che sono molto brave a fare anche queste valutazioni. E quindi con questo poi ci regoliamo per la gestione ad obicilio, se modificare la cura, dare l'antibiotico, cure appropriate o anche poi decidere se c'è bisogno di una ospedalizzazione. Continua intanto la campagna vaccinale anti-influenzale negli ambulatori per la popolazione a rischio e gli ultra-sessantenni e si presume che non ci saranno rimanenze da destinare alle farmacie per la vaccinazione della popolazione attiva. I medici di famiglia si sono organizzati un po' su appuntamento e poi una cosa credo molto interessante in collaborazione con i comuni, con la protezione civile, anche in giornate dedicate alla vaccinazione in luoghi diciamo spaziosi che possono accogliere le persone garantendo il distanziamento e la sicurezza. A Fumane abbiamo fatto sabato, in quattro ore della mattinata di sabato sono venute a vaccinarsi 450 persone. Hanno collaborato sei medici, otto infermieri e circa 15 volontari della protezione civile. È stata una giornata molto bella, apprezzata dai cittadini e che ha dato anche un segnale importante di una cultura nuova. Da questo virus si esce insieme, non ci si ammala da soli e si esce insieme. Devo dire che la campagna vaccinale ha anche qualche difficoltà perché noi medici di famiglia abbiamo ricevuto il 20% di dosi in meno di vaccini rispetto all'obiettivo che ci è stato fissato dalla regione di vaccinare il 75% delle persone a rischio. Mi dispiace ma io credo che i medici di famiglia non avranno rimanenze di vaccini. Io stesso ho finito i vaccini trivalenti per gli ultra sessantenni e attendo un terzo rifornimento dall'ULS per completare le vaccinazioni.